Se ci sei batti un colpo, il primo colpo nel teatro politico del Molise lo hanno battuto i rappresentanti delle formazioni minori del centro-sinistra riuniti a Campobasso che hanno chiesto, presumibilmente a Ruta e Frattura, di entrare a far parte del gioco in vista di possibili rimpasti o rilanci dell'azione del governo regionale. Ma nella politica da marciapiede del Molise non sembra esserci spazio per i fratelli minori, visto che alla riunione non c'era nessun rappresentante né del governo Frattura né degli stessi consiglieri regionali eletti dai partiti che giustamente reclamano visibilità. Comunque il segnale lanciato dai partiti della sinistra non deve essere trascurato perché per la prima volta si tratta di un distinguo chiaro e netto rispetto alla maggioranza. Un messaggio a Frattura e Ruta ma anche un preciso monito, attenti perché o cambiamo le cose o potremo prendere le distanze e quando questo possa pesare a livello di opinione pubblica non è affatto trascurabile. Del resto la politica italiana è piena di precedenti tra cui quello di Prodi che iniziò a cadere dal momento in cui il suo olivo non tenne più conto dei cosiddetti ramoscelli. Tornando ai primi appuntamenti del 2015 di rilievo la doppia seduta del Consiglio regionale del 9 gennaio quando di mattina si parlerà del futuro di zuccherificio e filiera avicola. Le minoranze sperano che finalmente qualcuno tra i rappresentanti del governo regionale si alzi e dica cosa si ha intenzione di fare realmente per Termoli e Boiano. Il tempo corre e le soluzioni ancora sono poco chiare ma non si parlerà sicuramente solo di zuccheri e polli. In agenda subito dopo c'è un tema di grande importanza, l'individuazione dei tre consiglieri regionali che andranno a Roma ad eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Lo scorso aprile 2013 furono scelti Ciocca e Totaro per la maggioranza e Fusco Perrella per la minoranza. Ma non finisce qui l'agenda politica 2015 che a breve troverà anche la scadenza dell'elezione a metà consigliatura del nuovo presidente del Consiglio regionale. Nero spera nella riconferma ma c'è anche Cotugno di Rialza Timolise che sicuramente chiederà il rispetto degli impegni sottoscritti nel 2013. Altamente probabile per non dire scontato che con l'elezione del presidente del Consiglio si incroci anche la verifica e l'eventuale rimpasto della giunta a frattura. Doveva esserci già a fine 2013 ma è netta l'impressione che ritornerà tutto in gioco insieme alla presidenza di Palazzo Moffa.